Non ho chiuso la mia carriera, ma sono arrivato a questo soddisfacimento dei miei requisiti per fare la mia carriera, che è stata anche molto rapida, perché per la mia età sono stato nominato generale a una certa data che ho scritto qui, e poi ho visto che la vera cosa è stata che la mia occupazione successiva, io ero un uomo di reparto, un uomo di azione, di azione immediata, e la mia carriera successiva sarebbe stata, sarebbe stata altrimenti invece una cosa di, non lo so, di studi, di andare a comandare, non so, la scuola di guerra, piuttosto che qualche altra cosa del genere come hanno fatto i miei colleghi che mi hanno seguito, che invece sono rimasti in servizio, e che non era quello che volevo io. Io mi sono iscritto all'università, al Politecnico di Milano, io ho insegnato aerodinamica, che mi ha insegnato il vecchio professore mio in accademia, ero innamorato dell'aerodinamica, ho fatto sempre lezioni in tutti gli reparti dove sono stato, c'era sempre una componente di addestramento teorico dei piloti, e io sono sempre stato nominato, perché ho chiesto di farlo, a insegnare l'aerodinamica ai piloti, perché il volo degli aeroplani moderni è fatto con la testa, non col sedere, come faceva Francesco Baracca, perché poverino, aveva un altro tipo di aeroplano, e noi l'abbiamo volato, io ero quello che riuscivo, non sto menando vanto di questo, ma io ho volato, facevo vedere ai piloti che l'F-104 con tutte le sue difficoltà, le sue pecche, non le sue pecche neanche una, ma con le sue difficoltà aerodinamiche, perché è nato con dei propositi operativi, che richiedeva un'aerodinamica speciale, e si poteva usare per fare delle cose molto più semplici, se ne conoscevi l'aerodinamica, io tutti i miei allievi gli facevo vedere che l'F-104 si poteva volare, a leggere sull'anemometro, io gli facevo leggere sull'anemometro, velocità inferiori ai 40-50 nodi, anche zero, velocità zero, con l'F-104, perché tutti dicevano che l'aeroplano ammazza, e lo dicevano anche gli americani, i tedeschi lo dicevano, avevano ragione di dirlo, e l'F-104 si vola a velocità zero, ma perché l'aerodinamica lo consente, si può fare, se lo fai e sopravvivi vuol dire che si può fare, e questo il pilota lo deve sapere, che ha un mezzo che gli consente di andare a 50 nodi, o a zero nodi, o a 10 nodi, indicati dall'anemometro, e quindi avevo sempre questo piacere di non insegnare, far vedere le possibilità degli aeroplani in queste posizioni, in queste situazioni estreme, e l'ho sempre fatto con queste cose qua, anche successivamente, e quindi sono sempre insegnatore aerodinamica, mi sono iscritto all'università e al Politecnico di Milano, poi quando, e dopo, e successivamente, quando ho lasciato, frequentato quotidianamente come liceo, ogni mattina alle otto e mezza ero lì a aprire le aule, fino alla sera, alla sera dopo aver mangiato, perché ero anche senza soldi, e quindi, ero, e quindi avevo, sono laureato bene in aerodinamica e aerospaziale, in ingegneria aerospaziale, e giusta anche la macchina di fianco con cui collaboravo, insomma, e ho fatto, e ho visto che in aeronautica non potevo più lavorare da operativo, perché non mi competeva più per il mio grado, per la mia collocazione, non mi avrebbero più chiesto di comandare un reparto, a un reparto da caccia, perché non era più da me, da me, da un generale, e allora mi sono rivolto a questo mondo esterno, i miei colleghi andavano all'Italia, ecco, andavano all'Italia, prendevano più soldi, stavano a Roma con le loro famiglie, eccetera, io non gradivo quel tipo di attività lì, prendevo un'attività più personalizzata, e comunque in un certo momento ho pensato che l'ho dovuto lasciare, perché l'aeronautica non mi poteva lasciare così, un po' sospeso a fare dei compiti da poco, cioè mi proponeva di fare delle cose che io non erano mie, andare a dirigere delle scuole di tipo universitario, cose di questo genere, e quindi ho lasciato, ho lasciato con grande rammarico, e quindi mantenendo tutti i miei rapporti personali con chi di dovere, ho lasciato e ho proseguito, mi sono laureato anche in scienze politiche, perché volevo imparare, ma che poi non ho mai esercitato, non sono mai diventato ambasciatore sulla parte, e ho continuato invece la mia cosa nell'aerodinamica, ho collaborato un po' con la Macchi, che era a due passi da casa mia, in Lombardia, sono stato negli Emirati, ho stato residente a Dubai per un paio d'anni, e lavoravo sempre in mezzo a questa gente, c'era la Macchi, che aveva lì, c'era Jack Zanazzo, che lui era un ragazzo molto in gambe, dei tre corsi dopo di me, era uscito prima di me dall'aeronautica, ed era andato, era stato pattugliere, era la sperimentale, e volava sui Macchi, lui aveva avuto il figlio del Lemiro, il figlio dell'Emiro è venuto qua, lui l'ha portato alla sperimentale, dall'Accademia, visto che era il figlio dell'Emiro, hanno fatto un po' di pressione, ma fate di fare, e l'hanno messo in mano a Jack Zanazzo, che menava, era la sperimentale, quindi menava tutti gli aeroplani del mondo, e l'ha fatto volare un po' sul Macchi, e questo qua si è invaghito dal Macchi, il figlio dell'Emiro, e tanto che l'Emiro si è comprato sei Macchi, perché ha voluto fare la pattuglia acrobatica, il Jack, l'ha fatto di questo ragazzo, che era già un grande amatore dell'aeronautica, l'ha fatto innamorare del macchino, ed è facile, perché era fantastico, è un jet, quindi con tutte le proprietà del jet, ti fai tutto quello che fai con le biciclette, e questo qua si è innamorato tanto, che ha detto a suo padre, compriamolo, e si è comprato sei macchi, la macchina non vedeva l'ora di entrare in quei paesi lì, capito? E cosa ha fatto? Ha capito che, avendo questo ragazzo invaghito, e avendo zanazzo, dice, non ti preoccuparti, adesso voi avrete la pattuglia acrobatica dei Macchi, come avete visto in Italia, la faremo anche di là. Insomma, si sono, e l'ha fatta, e quindi ha fatto, ha creato questo zoccolo duro, solido, pieno di denaro, come l'emiro del Dubai, a Dubai, e in maniera che l'aeronautica l'ha usato, e la Macchi soprattutto, l'ha usato a strafottare, nel senso che gli hanno detto, guarda, noi ti facciamo, tu ti fai un'aeronautica qua, tu poi fai paura a tutti, le cose qua intorno, cioè hanno fatto sto combino con sto emiro, che era innamorato dell'Italia attraverso il figlio, io ero residente a Dubai, a quel punto lì, perché ero la mina vagante, messo lì a fare la spia, un po' per tutti, per l'elettronica, che ci voleva mettere il radar warning receiver, perché questo signore qui, appena gli dicevi della guerra, gli arabi sono fatti in maniera, che hanno vissuto tutta la vita con lo schioppo, ma lo schioppo gli serviva per prendere il coniglio per maniare, cioè loro maniavano con lo schioppo, quindi l'arma per l'arabo, quegli arabi lì perlomeno, era la vita, e allora andavano in giro, o col falcone, quando veniva a settembre andavano a caccia col falcone, tutti andavano al ristorante dappertutto, col falcone appoggiato qua sopra, oppure andavano con lo schioppo in spalla, perché maniavano con quello, sotto la tenda, e arriva la patuglia dei sei aeroplani, e Jack era un manipolatore, alla sperimentale, figurati, era invitare a nozze l'Italia, e diceva, guarda, io ti faccio, sta a sentire, io ti faccio un pod fotografico, e parlo della realtà, perché poi l'ho volato io quella roba lì, a cercare i sottomarini, e non ero più con le stelle eterosense, e ti faccio un pod fotografico, dove tu vai a scoprire, a fotografare i morti di tutti, qua intorno qua, capito, perché diventi padrone della baracca, con queste armi qua, ti faccio le razziere, aveva le razziere, da 26 razzi, devo spararli, erano tanto bravi, che sparavano il razzo singolo, che nessuno usa il razzo singolo, nella razziera, ti lanciano una razzata di roba, e ti abbatte, questi qua andavano a sparare, nei bidoni della benzina, messi nel deserto, con il razzo singolo, perché sono nati con lo schiopo in mano, e l'arma è la vita per l'arabo, di quell'arabo lì, che vive sotto la tenda, capisci? E lì ha soleticati al punto, che hanno pagato, degli programmi di sviluppo, in America, in Italia, di robe, tipo il pod fotografico, che avevano, che gli erano fatto, non sono riusciti a fare il rifornimento in volo, ma volevano fare, qualcosiasi cosa, tu gli proponessi, che costava 7 miliardi di, 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 e tiravano fuori i soldi, e lo facevano, perché loro avevano, potevano andare dagli altri 5 emirati, quanti sono, a dire, io ho l'aeroplano che fa il rifornimento in volo, e si facevano, capito? Per loro, era la loro vita, avevano un pozzo di soldi, e non sapevano dove spendere, arrivavano solo delle Ferrari, giù, c'era, c'era il, 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 viveva di oro che arrivava da Arezzo, e da tutte queste banche, queste cose che facevano l'oro, l'oro a macchina, e per i mercati suq arabi, di quei cose lì, e di Ferrari, e di, e di, no, quanti ne ho mandati giù io, di schioppi della, come si chiama, chi è che fa qui gli schioppi? Eh, la veretta, che facevano queste, queste armi, con la, con la canna tutta lavorata fuori, no, dentro, fatta per andare a caccia, e fuori tutta, tutta, tutta istoriata, dei costi inimmaginabili, il, il, il fucile singolo per il, quel emiro, che l'altro poi la voleva uguale, però lo voleva diverso, era un, a battaglie di milionate, ma tanti, e, 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 e Jack era lì in mezzo a sta roba qua, e funzionava, funzionava, funzionava benissimo, e ha fatto, e hanno fatto un pozzo di soldi, hanno tirato fuori un sacco di informazioni, hanno fatto tutto quello che hanno voluto con gli emirati arabi, e poi sono passato all'aviazione d'affari, l'aviazione d'affari è l'aviazione che delle grandi, alcune grandi aziende italiane, parlo del Fiat, Moratti, i fratelli Ferruzzi, si sono costituiti per il loro lavoro, la loro attività aziendale, e avevano bisogno, ciascuno, di un direttore operativo, mi sono dato anche alla regione Lombardia, che all'epoca aveva inventato, la protezione dei boschi, di propria competenza, dagli incendi, e dal, cioè, la cosa degli incendi, e dello smorzamento dei cose, facendo venire, degli incendi, facendo venire, non utilizzando le forze italiane, che erano poche, gli antincendio italiani, non riuscivano a coprire tutte le necessità, abbia fatto venire della gente, da lontano, dall'Australia, con gli aeroplani, ho diretto anche quel tipo di lavoro lì, insomma, dei lavori di carattere molto più pragmatico, e ho continuato, e ancora continuo, perché scrivo libri di aerodinamica, e faccio cose con, continuo a fare l'istruttore, e ancora lo sono, e vorrei continuare a, con gli aeroclub, con gli aeroplani leggeri, quello che l'età, ormai, mi consente di fare, perché volerei anche col C100, C100 è qualche cosa, ma non c'è, non più, e grazie a tutti, ecco. grazie a tutti, Grazie a tutti